Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme, presto l'annuncio Gigi D'Alessio ritorna con Anna Tatangelo I due sono sempre più vicini. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo potrebbero essere ritornati insieme, o sarebbero vicini a compiere di nuovo il grande passo, questo è quanto si legge nel nuovo numero di chi, uscito in tutte le edicole questa mattina. Il breve articolo inizia con gli antefatti, raccontando dell'annuncio fatto dalla coppia su social durante il mese di luglio, e del loro allontanamento durante tutto il resto dell'estate. Durante questa parentesi, Gigi è stato molto impegnato con il suo tour estivo, mentre Anna, tra una coccola e l'altra insieme a suo figlio Andrea, ha anche partecipato a Celebrity Master Cave in cui sembrerebbe aver dato filo da torcere a Orietta Berti. In seguito queste sono state alcune delle parole scritte, il riavvicinamento tra i due è avvenuto in modo graduale, prima di tutto per amore del figlio Andrea. Proseguendo, la rivelazione sarebbe stata lanciata dagli amici di Anna e Gigi. Ecco cosa è stato riportato, amici vicini alla coppia rivelano a chi che i due sarebbero addirittura pronti a fare un nuovo comunicato per annunciare il loro riavvicinamento. Insomma, è veramente ritornato il sereno tra i due. Anna Tatangelo insieme a Gigi D'Alessio, il graduale riavvicinamento. Dopo tanti gossip, finalmente è arrivata la verità, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sarebbero tornati a frequentarsi e anche se il loro fidanzamento sembrerebbe non essere ancora ufficiale, il passo fatto sarebbe veramente enorme. Durante questa calda estate infatti i due non si rivolgevano nemmeno una parola. Inoltre, sempre sul giornale di gossip di Alfonso Signorini, si legge che l'armonia della coppia sia testimoniata anche dal fatto che lei ultimamente ha partecipato ad alcuni concerti di Gigi, cosa che non aveva mai fatto durante gli ultimi mesi. Il ritorno di fiamma porterebbe molta felicità anche ai fan della coppia, che non hanno mai creduto a tutti i gossip che uscivano riguardo ai vari, e alla fine falsi, flirt della Tatangelo. I due cantanti avevano annunciato la loro crisi attraverso un comunicato stampa lanciato attraverso i social, a cui si era aggiunto poi anche un post scritto da Anna nella quale chiedeva gentilmente rispetto per la loro decisione. Anna e Gigi, se si fossero veramente ricongiunti, potrebbero scrivere anche entro i prossimi giorni un nuovo annuncio, questa volta positivo. . .